Ancora un giorno senza nei nuovi casi covid accertati, 1.431 totali nei 9 vittime, 75 in Umbria, dove secondo i dati aggiornati della regione gli attualmente positivi scendono a quota 45, meno 4 rispetto a ieri. I guariti sono 1.311 più 4 e 13 clinicamente guariti più 6. Attualmente sono ricoverati in 15 più 1 rispetto a ieri per il coronavirus, 2 invariato in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 30 meno 5 rispetto a ieri. Nel complesso entro le ore 8 del 27 maggio sono stati eseguiti 66.202 tamponi più 1.206 rispetto a ieri.